91 opere presentate, 65 in lingua, 26 opera prima in rappresentanza delle principali case editrici italiane. La sedicesima edizione del premio Pascoli di poesia volge al termine ed emette i suoi verdetti, prevista a Casa Pascoli, sabato 30 luglio, la serata di premiazione. I vincitori di quest'anno sono come sempre due, uno per quanto riguarda l'opera prima in lingua italiana e uno per quanto riguarda l'opera in lingua italiana. Sono una poeta e un poeta, una è Mariangela Gualtieri, una poeta delle nostre terre, molto conosciuta, fondatrice con il suo compagno Cesare Ronconi del teatro della Valdocca di Cesena, che è un teatro però con dimensioni sicuramente nazionali e internazionali e l'altro è un giovane, Stefano Casacca, che è al suo esordio e viene premiato appunto con quest'opera prima. I titoli di entrambe le opere riportano il termine parole, Mariangela Gualtieri vince con le giovani parole che è edito dalla collana bianca di Eunaudi, è una delle più prestigiosi collane di poesia italiane e l'altra invece è oggi si viaggia a parole di Stefano Casacca, collana poesia contemporanea di Nomos edizione, l'ottore più piccolo ma insomma abbastanza noto nel campo della poesia.